Allora ragazzi, vi dico subitissimo che questo video vi farà morire dalle risate Perché raga, ieri, praticamente è successo, anzi in questo momento è successo, ma per voi ormai è ieri Questa notte è alle 3.50 di notte Siamo stati veramente assaliti da una peregina E io ragazzi ho dovuto salvare veramente la mia ragazza e mia cugina Quindi raga, sto video è venuto fuori qualcosa di assurdo Io ho detto no, io lo devo per forza caricare perché qui la gente deve farsi due risate Raga, vi sentite male? A me ancora mi viene da ridere Ve lo giuro, non so se qualcuno già l'ha visto sulle stories Però raga, vi sentite male Io ve lo dico, vedete sto video, raga, godetelo e fatemi sapere qua sotto nei commenti che ne pensate A me ancora mi viene da ridere Raga, mi raccomando, vi chiedo un sacco di like, mi raccomando, spolliciate Perché raga, non lo so, ho detto 300.000 volte raga, ma va bene così, vi voglio bene Guardatemi sto video Vieni qua Giulia, mi riprendi Madonna che la regina quanto è grande Giù riprendi che qua c'è stata fa un suicidio Ma che sei matto Simone Aiuto Oh regà, aspetta Simone Ma come sta uscire? 3, 2, 1 No Simone Ecco eh Giulia Giulia ma si si fa a riprendere Ma che sei matto Ma che cosa vieni qua? Ma che vergola? Si vede, si vede Si vede No Simone Uccidila, uccidila Aspetta Oddio, 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 oddio Simo togli una botta e chiudi lo sportello Sbacchi tutta No, si è incazzata raga Simo esce da sotto No, sta qua No Mi vedi eh? Di giù Mi vedi? No, no, no No Il mondo è nata La cosa è incazzata Perché tu chiuso lo sportello Ma quella è uscita È uscita? Si È uscita dallo sportello Tu stai in giro Allora Come sta adentrata? Come sta adentrata? A costo di morire La sportella Simone si incazza Oddio, che è uscita? No Come no Come no? Asia, vieni qua Asia Ma ti sta cascando sotto? No, che è un Asia Ci pure che sta Asia Asia Oddio, l'infarto Guardate, eh Simo dov'è? Non lo so Eccola Prende laggiù Ma che dì io non c'ho niente in mano Do sta? Ehi Brutta Sì No No È trovata Si vuole l'ultimo colpo Colpo le grazie Asia no Asia È riuscita Bravo amore Era il liceo di guerra Di fame Adesso che muo arrivano tutte le fie Chiudi, chiudi la finestra In turno E' più come butteranno in qua a mangiarci The champion Sono le ore Mi sto creando addosso Come butteranno in qua a mangiare Trabofame Soprafame Non mi ne